Mi raccomando mettimi i prelazzi prima che inizi il video e iscriviti al canale Ehi tu sei nuovo? Bene, iscriviti al canale, attiva la campanellina e goditi i video Ello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale Sì, era da un secolo e mezzo che non portavo nessun video, ma ora sono qui, finalmente ritornata per gioire con voi Ok, e basta fare cose stupide Oggi siamo qui per parlare di un argomento molto molto serio che sicuramente sarà affliggendolo mente di molte persone Tra cui voi iscritti, credo, spero, forse, boh Comunque, se state guardando questo video, un motivo ci sarà O già siete iscritti a questo istituto, oppure siete in terza media e dovete scegliere l'istituto superiore dove iscrivervi E dove passare i vostri ultimi 5 anni di scuola Quindi, in questo video, vi farò una lista dei motivi per cui non iscrivervi al turistico Ma scherzi a parte, direi di iniziare subito Quindi, prima di iniziare, vi lascio un bel pollice sul commentare e iscrivervi se ancora avete fatto E mi raccomando, seguitemi su Instagram a questo nome, oppure il link in descrizione Come chi mi segue da un po' saprà, frequento un istituto tecnico per il turismo Quindi, come tale, ho delle materie di indirizzo che sono prettamente legate al settore turistico E per materie di indirizzo intendo storie dell'arte, economia aziendale, tedesco, inglese e francese Che sono principalmente le lingue, insomma Ah, senza dimenticarci di geografia turistica Che ormai lasciamo tutti un attimo da parte Perché, cioè, chi è che si mette ancora a studiare geografia alle superiori? Nessuno, a parte quelli del turistico E vabbè, ce ne faremo una ragione, regà E quindi niente, oggi sono qui per dirvi perché io ho scelto questo indirizzo Che cosa faccio io a scuola Quali sono i pro, quali sono i contro di questo indirizzo E tante altre cose belle che sto qui a dirvi e ad elencarvi Questo video uscirà probabilmente prima delle feste di dicembre Cioè, quindi, prima di Natale e tutto il resto Perché so che molte persone a gennaio comunque devono già scegliere la scuola Comunque sia, devo ammettere che il tedesco mi sta piacendo Non è la lingua più facile sulla faccia della terra Però nemmeno la più difficile Anche perché la maggior parte delle parole si pronunciano come si scrivono Quindi, tu ti ricordi come si scrive Si pronuncia uguale, quindi non hai troppi problemi A differenza del francese oppure dell'inglese Che magari la parola si pronuncia in un modo E si scrive in un modo completamente diverso Soprattutto in francese Che io, devo dire la verità, odio Non vado male in nessuna materia, nemmeno nelle lingue Però, cioè, ci sono alcune materie su cui appunto simpatizzo E altre che invece non mi piacciono Ma che comunque le faccio perché sono una materia in indirizzo E perché comunque le devo fare per forza Perché altrimenti mi trovo svantaggiata, insomma Allora, iniziamo a parlare delle lingue Dato che abbiamo già aperto questo discorso Adoro l'inglese Il francese non mi piace troppo Però l'ho fatto anche alle medie Quindi alla fine non mi era così difficile, insomma Farlo e non mi è difficile tuttora Perché appunto, cioè, sono le stesse cose alla fine Il francese quel è, non è che cambia all'improvviso E poi il tedesco l'abbiamo iniziato l'anno scorso Ovvero in terzo Perché per chi non lo sapesse Io frequento il quarto anno quest'anno E quindi, sì, scusami i giochi di parole Abbiamo iniziato l'anno scorso tedesco Abbiamo iniziato con le cose basilari Come si fa in tutte le lingue E adesso stiamo andando man mano sempre più avanti Devo dire che sono stata molto fortunata Perché ho avuto e ho tuttora La stessa docente dell'anno scorso Che è davvero molto brava Si mette lì con calma Ci spiega le cose Ci spiega altre dieci volte Se non le abbiamo capite Insomma, si fa capire E ci fa capire E questa è una cosa davvero ottima Perché io credo che se abbiate un professore O comunque una professoressa Che non spiega o spiega male È difficile davvero capire la lingua Ed è difficile anche studiarla Perché magari non vi piace il suo metodo di insentimento E il sesso che non capite Non vi sforzate nemmeno di farlo Mentre l'inglese, come già detto È la mia lingua del cuore È praticamente la lingua che adoro più di fare E sì, mi è sempre piaciuta Fin da quando ero piccola Che stavo all'elementare Quindi non ho problemi, insomma Cioè, mai presa un'insufficienza in inglese Proprio, no, mai No, mai, mai, mai Poi, per quanto riguarda le altre materie di indirizzo Che sono economia aziendale E geografia turistica E storia dell'arte Beh, storia dell'arte L'abbiamo iniziata al terzo anno E la professoressa, devo dire Che si mette lì, ce la spiega, eccetera Però a me non piace proprio Quindi, mmh Cioè Io e la storia dell'arte Stiamo proprio litigate Faccio un inono indispensabile Giusto per passare Mentre geografia turistica Beh, la geografia la facciamo Dalla prima elementare Quindi diciamo che non è troppo difficile Poi più che altro Ti devi ricordare La storia del paese I nomi dei fiumi, eccetera Quindi, boh Non ci vuole molto Ed economia aziendale È invece la parte più pallosa Sulla faccia della terra Perché economia aziendale Praticamente ti occupi Di tutto il settore finanziario Tra virgolette Tutto l'aspetto economico Di un'azienda Per esempio L'anno scorso abbiamo fatto Il voucher Poi facemmo le fatture In seconda E tutte queste cose Che riguardano comunque Le prenotazioni Le fatture, eccetera Si potrebbe avere a che fare Una volta Finita la scuola E andare a lavorare Magari in un albergo O così del genere Quindi a livello di materie Sono queste Le principali Che sono di indirizzo Poi il resto Sono comunque Letteratura Storia Matematica Le solite cose Che insomma Si fanno in tutti gli indirizzi Più o meno Per quanto riguarda L'orario Dipende dalla scuola Che scegliete Io per esempio Non vado il sabato a scuola Però faccio Tutta la settimana Dal lunedì al venerdì Che esco alle 2 Tranne il martedì e il giovedì Che invece esco alle 3 Per appunto Recuperare gli orari Mentre i miei amici Che stanno al scientifico Vanno il sabato a scuola Però escono poi In settimana A l'una e mezza Tutti i giorni Poi Passando ai lati Negativi Più che altro Diciamo Del turistico È il fatto che Non è così facile Come sembra Perché non vi fidate Dei giudizi Di quelli che dicono Che al turistico Non si fa niente Perché al turistico Ragazzi Fidatevi Si lavora E magari si lavora Anche No Forse più del liceo Classico E scientifico No Però fidatevi Che si lavora Abbastanza Perché Comunque Siamo sempre lì Che abbiamo a che fare Con magari anche Progetti esterni Riguardo alla scuola Perché magari Essendo in indirizzo turistico I professori Vogliono farci fare Più esperienze Diciamo così Quindi abbiamo a che fare Con più progetti Contemporaneamente Una cosa che odio Profondamente Del turistico È Quando Devi fare Da guida Alle gite Cioè Io faccio una gita Devo fare Io da guida Alla mia classe Oppure La mia classe Deve fare Da guida Ad altre classi Che sono con noi E questa cosa Ragazzi Io davvero Non la capisco Cioè Perché noi Poveri ragazzi Dobbiamo fare la guida Ad altri ragazzi O comunque Ai nostri compagni Di classe Perché Non potete farlo Voi docenti No Lo dobbiamo fare noi Cioè Praticamente Dobbiamo iniziare A lavorare Prima di andare Prima di andare A lavorare Perché siamo Ancora a scuola E io Non sopporto Sto fatto Per fortuna A me Ancora Non è capitato Sarà perché Io non partecipo Quasi mai Alle gite Anche perché La maggior parte Alle gite Che facciamo Non mi piacciono Però ragazzi Fidatevi Che è una cosa Davvero odiosa Quando dovete Prepararvi Per spiegare Quello che andrete A vedere in gita Ai vostri compagni O comunque Ad altre persone Altre cose Che si fanno Al turistico Ad esempio A scuola mia Abbiamo delle divise Abbiamo le divise Come l'alberghiero Che invece Ha tre divise Noi ne abbiamo Una sola Perché comunque Tre sarebbero inutili E abbiamo questa divisa Che adesso Magari vi mostro Dopo Ma si dai Ve la mostro un attimo Dicevo Abbiamo questa divisa Che consiste In Vabbè Questa è la busta Contenitiva Tipo Non so se entrano In inquatratura Sì in realtà E abbiamo Sia maschi Sia femmine Camicia Che vedete qua sotto La giacca Blu E il pantalone Sempre simile alla giacca Insomma Un classicissimo pantalone Sempre di colore blu E poi abbiamo un pullar verde Mentre i maschi Hanno una cravatta verde E questa appunto È la nostra divisa Questa è la divisa Che indossiamo Quando dobbiamo fare La guida turistica Alle gite Ai nostri compagni Eccetera Oppure Quando semplicemente Facciamo servizio Hostess O steward A scuola Perché praticamente Nella mia scuola Determinanti giorni A settimana Abbiamo dei turni stabiliti Per fare servizio E questo servizio Consiste nel Fare le mansioni Al bidello Non so che cosa Centrico nel nostro lavoro Però va bene uguale Insomma Vabbè Facciamo finta di nulla Comunque le nostre mansioni Nella giornata Di servizio Insomma Sono andare A chiamare Ragazzi Che devono uscire Da scuola Quindi farli uscire Appunto dalle classi Con il registro Eccetera Scrivere Permessi Di entrate uscite Permessi di ritardo Per esempio Non so Andare a comunicare Ai docenti Che per esempio Domani Sono in sostituzione Una determinata classe Andare a comunicare Alle varie classi Quali sono I docenti assenti A quale orario Dovranno entrare E cose del genere E poi ovviamente Mansione principale È quella di Indirizzare I genitori Degli alunni Che vengono a scuola Per chiedere informazioni Eccetera Alla Sede giusta Di scuola Oppure comunque Al sportello Della segreteria Adatto E quindi sì Insomma Ci mettono Sotto le fatiche Pesanti Però diciamo Che questa cosa Vale anche Nel nostro curriculum Perché una volta Finita la scuola Abbiamo un qualcosa In più da dire Insomma Poi c'è l'alternanza Scuola-lavoro Che è quella State facendo Praticamente tutti Voi delle superiori O comunque Chi deve fare Le superiori Deve sapere Che dal terzo anno In poi Inizia l'alternanza Scuola-lavoro Che prima Era requisito Di ammissione All'esame Adesso non l'è più Però comunque si fa E praticamente Cos'è questa Alternanza Scuola-lavoro In base al settore Che avete scelto In questo caso Sempre il turistico Ci sono determinate cose Che potete fare Per esempio Noi l'anno scorso In terzo Siamo andati In una fondazione Qua nella mia città A Napoli Chiamato XBACT Dove fanno dei corsi Di formazione Per professionisti Insomma E in questo istituto Non abbiamo fatto corsi Di formazione Perché non ne abbiamo Bisogno ancora Ma abbiamo Semplicemente Sviluppato un'app Abbiamo sviluppato Un'app Chiamata Napoli Tours Che non credo sia ancora Disponibile in download Perché era ancora in fase Di beta Eccetera E comunque Con quest'app Abbiamo creato Degli itinerari Della città di Napoli Eccetera Perché alla fine È quello che poi Andremo a fare noi Abbiamo fatto Questi itinerari Chi ha fatto L'itinerario Enno-grastronomico Chi culturale Chi naturalistico E una volta Fatto ciò Li abbiamo caricati Tutti sull'app E quindi sì Alla fine è stata Un'esperienza Abbastanza interessante Soprattutto L'esperienza Più interessante Della settimana Che abbiamo Trascorso Nell'alternanza È stata Fare il giro Di tutte le Connetterie Di tutti I bar Che c'erano In quella zona Perché davvero È strapieno Allì Cioè È proprio Strapieno Dove ti giri Ti giri C'è qualcosa Da mangiare O da bere O fare cose E quindi sì Ci siamo divertiti Abbastanza E anche quest'anno Ovviamente Dovremmo fare alternanza Però ancora Non sappiamo Dove possiamo andare Bene Ma dopo tutto Questo discorso E la mia divisa Che è ancora sul letto Perché ancora Non voglio andare A posare Direi che possiamo Tirare fuori Le conclusioni Di questo video Perché è anche Durato abbastanza Quindi A chi consiglio L'indirizzo turistico Il turistico Lo consiglio Soprattutto Alle persone Che vogliono Avere a che fare Con molte persone Ogni giorno Per esempio Turisti appunto Stranieri Italiani Qualche sia A chi Piacciono le lingue Quindi Dovete Almeno Avere La consapevolezza Che vi piacciono Le lingue Quindi inglese Francese Tedesco Spagnolo Russo Poi dipende Dalla scuola Che frequentate Quali sono le materie Che vi faranno Scegliere Di lingue E poi Poi avere Avere la consapevolezza Che comunque Si dovrà studiare Geografia Si dovranno fare Intinerari Si dovranno fare Voucher Tutte queste cose Qui E anche le pratiche Finanziarie Come appunto Le fatture E tutto il resto Quindi sì È un indirizzo Che richiede Del lavoro Richiede Della passione Perché senza La passione Non si va Da nessuna parte Però devo dire Che è un indirizzo Che vi dà Anche grosse soddisfazioni Perché Sì Fidatevi ragazzi Vi darà grosse soddisfazioni Soprattutto grazie alle lingue Perché voi Con le lingue Potete fare Il cavolo Che vi pare Praticamente Quindi sì Raga Io principalmente Ho scelto Il turistico Perché volevo Fare il linguistico All'inizio Non vi nego Che la mia scelta Non era il turistico Ma il linguistico Solo che comunque Era lontana La scuola Era una cosa Che poi dovevo Continuare Per forza All'università Anche se comunque Ho intenzione Di andare all'università Ma quello È un discorso futuro E Praticamente Sì Questo insomma Principalmente Alla fine Ne ho ripiegato Sul turistico Perché comunque Mi permetteva Di fare tre lingue E mi permetteva Di fare ciò Che voglio fare Poi in futuro Perché il mio sogno Più grande È quello Di viaggiare E girare il mondo E quindi Sì Principalmente Sto cercando Di fare quello Poi a proposito Di viaggiare E girare il mondo C'è un bel video Già pronto Che ho già registrato Che uscirà Il 31 di dicembre A capodanno E niente Io ragazzi Direi che per questo video Può essere tutto Fatemi sapere voi Che cosa ne pensate Di questo video Fatemi sapere Che cosa ne pensate Del turistico Se siete del turistico Se siete in terza media E vi avete pensato Di iscrivervi al turistico E niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così è stato Venite a lasciare un bel posto Su commentare Iscrivervi al canale Se ancora avete fatto E noi ci vediamo Il 25 di dicembre Con lo speciale natalizio E poi il 31 di dicembre Con lo speciale di capodanno Bella